benissimo bene intanto grazie insomma di essere qui molti sono presenti a distanza insomma che un po il segno dei tempi no ma io non so quanto tempo mi pare poco e quindi siccome vado a braccio sostanzialmente non dico alcune cose che mi vengono anche da dagli interventi precedenti innanzitutto l'aspetto che a me fa davvero piacere rappresentare che io personalmente per quello che può valere credo fortemente queste in questi strumenti in questa tecnologia io la blocce la considero una delle più alte forme di verità perché noi sappiamo che tutte le verità sono mediate o attraverso un giudice o attraverso diciamo un apostolo chi che sia e secondo me è una delle più alte forme di verità quanto al discorso in effetti io credo moltissimo ad esempio in quello che è stato detto da diego e credo che siamo di fronte a un cambio di paradigma è una parola antessa molte volte abusata però quello che è stato detto prima ad esempio la questione di divento azionista una sorta di azionista noi ad esempio abbiamo fatto una cosa noi come studio abbiamo fatto una sorta abbiamo fatto un nft però abbiamo fatto una nft sì è un primo nft fatto da uno studio insomma legale pubblicario quello che però una forma ibrida ma perché abbiamo fatto una forma ibrida di effetti di nft è legato sostanzialmente a un magazine no quello che in realtà io volevo fare ma che voglio fare e sostanzialmente la dottore sì sì o sono stanco e lo dico per quelli in video si vede non sono riuscito neanche a mangiare perché sono detto dopo fatti 213 chilometri vado giù al bar mangio qualcosa non c'era nulla e quindi mi scuso magari se ci sono occhiaio ma non sono riuscito a mangiare dopo 213 chilometri ho mangiato una barretta prima qualcuno mi ha visto comunque stasera rimedieremo c'è anche luigi lo vecchio che è venuto da vari quindi stasera potremo mangiare in qualche locale pugliese ovviamente ovviamente però quello che voglio dire è questo no dico quello insomma poi vado agli aspetti tecnici ad esempio io come c'è qualche nostro partner qui dentro no io ho detto guardate io vorrei che chi è parte del nostro studio diventi partner attraverso un nft ok quindi come forma di appartenenza una comunità se questa comunità crea valore chiaramente chi aderisce a questa comunità ha un valore in mano e se la nostra comunità è una comunità chiusa non so poi parleremo unicità infungibilità scarsità tante cose se la nostra è una comunità chiusa e ad esempio tu entri nella nostra comunità e pagando non so un valore di 100 se noi creiamo valore come comunità professionale ci saranno dei colleghi che vorranno entrare nella nostra comunità perché noi abbiamo creato valore però entreranno e non pagheranno più 100 perché noi siamo i primi che hanno creato valore magari pagheranno 500 ma queste 500 andrà tutta la comunità cioè si crea che ci sono dei giovani di no una dao però io faccio fatica purtroppo a parlare ai miei colleghi di dao e di queste cose qui no e purtroppo siamo ancorati ancora non so all'avvimpimento alla fattura elettronica questo io dico da tempo guardate piano 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 e poi all'improvviso abbiamo parlato prima di intelligenze artificiali se continuiamo così piano piano e poi all'improvviso cioè ecco perché io dico è importante comprendere tutto questo mondo che non ha non va versato no diego giustamente diceva no c'è questa demonizzazione i giornali io dovrei dirlo perché purtroppo sono anche sono anche giornalista e questo e avrei tante cose da dire ricco è molto più facile demonizzare che capire che interpretare la parola interpretare no dico inter della inter cioè tra due cose prestazio che era atto di fede che significa un impegno però è difficile interpretare devi assumere delle responsabilità è molto più facile fare quello che abbiamo sempre fatto ma quello che abbiamo sempre fatto purtroppo tra un po finirà ed ecco perché è necessario incominciare a capire questo perché perché verrà verremo necessariamente sepolti da questo modo e quindi mi fa piacere parlare con i giovani e mi fa piacere che ad esempio diego quando ha detto ha dato una definizione di smart contract non ha detto che lo smart contract è un contratto perché lo smart contract è un software che rende esecutivo un contratto che ci stavamo così il wallet avete capito cos'è il wallet giusto penso oggi ma se wallet viene tradotto portafoglio voi avete capito che il wallet è generalmente un software hardware ma generalmente un software e voi non potete continuare a pensare a o comunque condividere ma con tutto il rispetto del mondo quello che vi dice l'agenzia delle entrate e purtroppo vado i miei temi mi tocca parlare di fisco a me viene una tristezza immonda a parlare di questioni fiscali dove l'agenzia delle entrate traducendo wallet portafoglio vi assimila il wallet il portafoglio a un conto corrente ma è una cosa blasfema per chi maneggia queste cose e noi continuiamo a dire magari qualcuno addirittura lo scrive che non so le criptovalute sono delle valute estere e che il wallet è un conto corrente ma a me viene da piangere ma non perché voglia fare non so quello particolare ma perché queste sono mi sento di dire dalle forme di verità noi però vogliamo continuare a sentirci dire perché è molto più facile ma certe cose che non stanno nel cielo interno allora quello che io perché francamente non so avrei miliardi di tante diciamo cose da dire allora io insomma per andare a rappresentare almeno quelle questioni di tipo giuridico fiscale di cui dovrei occuparmi dico semplicemente questo diamo una definizione ad esempio dell'nft no cos'è un nft ma giustamente diego ha detto è una sorta è una un certificato un certificato digitale possiamo darne in maniera semplicistica questa definizione se vogliamo dare una più tecnica possiamo dire che una rappresentazione digitale che può essere archiviata trasferita memorizzata eccetera rappresentazione digitale che incorpora un diritto questo è fondamentale quindi l'nft è una rappresentazione digitale che incorpora un diritto su un bene che è un bene generalmente un bene digitale così come un servizio digitale però oggi abbiamo degli esempi come avete avrete visto avrete letto di in effetti legati anche dei beni fisici cioè e nasce come forma di verità io non credo lo dico davvero con il cuore per i giorni non credo alle alle scimmiette annoiate a tutto questo mondo qui ai criptogatti e tutte quelle cose no cioè non credo alla alle alle figurine digitali per capirci credo invece molto al fatto che l'nft rappresenta una forma di verità come ho detto prima cioè una certificazione che attesta la proprietà o altro diritto su beni o servizi che sono digitali generalmente ma come oggi abbiamo degli esempi tutto ciò si è trasferito anche su dei beni e sono beni non digitali pensate al caso dell'autovettura alfa romeo tonale faccio un esempio ciclistico la bicicletta da corsa col nago c68 costa 15 mila euro e quindi non voglio no però è legato un nft ed è io mi mangio le mani perché ai miei soci questo lo scorso autunno dissi guardate secondo me si può scusate di picchiato i pantaloni devo mangiare secondo me potremmo pensare a si potrebbe pensare un nft legato ad esempio a dei beni che non sono dei beni mobili registrati tipo le biciclette da corsa che costano una cifra l'nft attraverso la block c'è da una forma di verità di attestazione della proprietà di quel telaio il fatto è che mi dicono io c'è luigi dice tu 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 hai troppe idee tu troppe idee hai no e dopo e dopo e dopo è caduta lì col nago l'ha fatto cavolo e io quando gliel'ho mandato allora mi veniva ragazzi mi viene da piangere no come quando a telefisco c4 5 anni fa dissi ragazzi a telefisco tipo 100 mila colleghi ma nessuno capì guardate la blog c'è molte forme di blog c'è il centro gatto dal mio punto di vista perché il dato nasce dal di fuori della blog c'è io credo quelle blog c'è dove come forma altissima di verità quando il dato nasce dentro posto che ormai ci sono blog centro gatte guardate per me la figura del commercialista o del professionista potrebbe essere un attestatore di quel dato ma nessuno mi nessuno capì continuiamo a tenere la testa bassa a continuare a fare gli impiegati dell'agenzia delle entrate o altre cose e c'è tutto un mondo c'è tutto un mondo no che dovrebbe essere colto noi non possiamo continuare a fare l'inter un mondo disintermediato noi continuiamo che va verso la disintermediazione continuiamo ad essere degli intermediari tra il l'azienda e l'amministrazione finanziaria per chi si occupa di fisco non diamo valore aggiunto il valore aggiunto ad esempio può essere studiare questi fenomeni perché io mi sono portato l'acqua detto ma devo anche vedere no studiare questi fenomeni perché noi possiamo dare ad esempio delle contribuire a diventare consulenti per l'azienda di queste cose lo dico soprattutto ai giovani e io quando vedo che le proposte ma con tutto il rispetto lo dico perché io non ho contro qualcuno ma che le proposte del Consiglio nazionale nuove facciamo una nuova rottamazione a me viene da piangere ma davvero lo dico io non ho forme di cattive chi mi conosce lo sa ma ho un fine ma mi viene da piangere per la categoria se noi pensiamo che la soluzione sia la rottamazione andiamo a casa ma lo dico con il cuore noi dobbiamo investire tempo che è la più grande ricchezza a studiare approfondire queste tematiche questo no e chi parla di queste cose ma io lo dico cioè ormai è una certa età ma non lo dico per me ed è fondamentale perché questo è un mondo tutto da costruire e tutto da costruire ed è fantastico dal mio punto di vista e quindi quello che voglio dire tornando alla definizione perché dopo spazio e dopo un problema dico che guardate io do una definizione di dnft sostanzialmente è una certificazione digitale che attesta la titolarità di un diritto su un bene digitale un servizio digitale ma anche come avete visto degli esempi adesso su beni immobili soprattutto su beni che non saranno registrati ed è una forma di verità questo secondo me è fondamentale è chiaro che tutto questo non è regolato no? diciamo che si demonizza è molto più facile demonizzare ma sono delle bolle, sono fenomeni tutti non regolati ma e allora? e allora dico qual è la novità? e c'è no? mi viene in mente un passaggio di Ciudala ma lasciamo stare purtroppo mi passano 3-4 cose contemporaneamente mentre parlo ho questo problema io non riesco a fare mi vengono tante cose che mi verrebbero a dire cioè se ci pensiamo il leasing è stato disciplinato dopo 50 anni giuridicamente e quindi sono fenomeni non regolati cioè il diritto ha sempre inseguito la tecnica è sempre stato così? cioè la tecnica è volontà di potenza diceva Nietzsche quindi il diritto ha sempre inseguito la tecnica non voglio parlare di cose tributarie il dividend washing 80 anni fa chi lo conosceva lo ha visto il dividend washing o altre forme cioè è sempre stato così il diritto è sempre rincorso e quindi il fatto che non siano fenomeni regolati a me non crea nessun problema il fatto è se noi come giuristi come professionisti come commercialisti avvocati eccetera riusciamo a comprendere seppure non regolati questi fenomeni se ci sono facendo un'attività di interpretazione se riusciamo ad accostarli a delle vicende giuridiche e quindi anche economiche e quindi anche tributarie che magari affermano stabiliscono certe regole e qui voglio semplicemente fare una piccola premessa e dopo così magari dico due cose sulle criptovalute parlando anche di NFT ma cerco di rappresentare due cose almeno un po' sto guardando il tempo e allora la prima che è la seguente quindi passo purtroppo alle vicende giuridico barra fiscali no? ma leggiandomi a quello che ho detto prima allora la prima questione è questa ogni fatto economico è anche un fatto giuridico ok? quindi partiamo da questo fatto quando ovviamente quel fatto giuridico risulta essere disciplinato ma quando il fatto giuridico esiste come fatto giuridico il fatto economico è una conseguenza di quello giuridico ok? primo aspetto secondo aspetto dal mio punto di vista so che vengo avversato ma non esiste nell'ordinamento eh tributario italiano una norma che stabilisca la prevalenza della sostanza sulla forma non esiste qualcuno me lo deve dire dov'è so che la Cassazione la pensa diversamente però la Cassazione no non vorrei dire delle cose però poi magari nel Teglie due settimane fa abbiamo fatto un convegno c'erano le giudizie della Cassazione io purtroppo parlavo di cose fiscali così una giudice una giudice ha detto beh oggi abbiamo imparato delle cose nuove ma cosa mi ha fatto anche piacere quindi vuol dire che no? magari anche non so ricordo sull'inerenza altre cose hanno cambiato quindi magari un giorno la Cassazione potrà ammettere che non esiste un principio generale con stabilito ex legge di prevalenza della sostanza sulla forma nelle vicende tributarie ok? perché non c'è la Cassazione dice è di derivazione costituzionale però voi sapete come tecnici del diritto e di quello tributario in particolare che l'articolo 53 della Costituzione non è rivolto né al giudice né all'amministrazione finanziaria ovviamente né al cittadino barra contribuente no? l'articolo 53 della Costituzione come quasi tutti i dettati costituzionali sono rivolti al legislatore e quindi evidentemente il principio dell'articolo 53 ha bisogno della mediazione di una legge ok? e quindi nell'ordinamento tributario italiano non esiste alcuna legge che stabilisca il principio di prevalenza della sostanza sulla forma ok? ditemi dov'è io vi credo ok? ditemi dov'è esistono delle norme che affermano la supremazia del fatto economico a prescindere quello giuridico esistono ovviamente ma esistono le disposizioni specifiche non so il principio di derivazione rafforzata ad esempio è pratigmatico di questo ma non esiste una norma generale questo dicono esistono delle singole disposizioni perché faccio questa premessa? faccio questa premessa perché evidentemente noi dobbiamo cercare come interprete di capire ad esempio come regolare fenomeni tipo quelli delle criptovalute vado così per dire almeno due cose e quelli degli NFT sotto un profilo del diritto tributario perché ricordo ricordo in tutto questo che ci sono delle forme giuridiche che hanno un riconoscimento giuridico cioè ad esempio le criptovalute nella disciplina antiriciclaggio articolo 1 comma 2 lettera QQ che doppia Q di quadro non è QQ no? da una definizione delle ovviamente no delle insomma criptovalute ma non solo abbiamo avuto il decreto legislativo 184 novembre 2021 che da una definizione ben precisa definizione che sostanzialmente dice quello che l'agenzia dell'entrata non avrebbe mai voluto sentire ovvero la definizione direi abbastanza chiara in cui si afferma che ovviamente le criptovalute non sono non hanno alcun accostamento passatemi questo termine con le valute estere ok? quindi cosa succede? esistono quindi delle forme giuridiche che però non hanno una disciplina fiscale perché sulle criptovalute come ad esempio sugli NFT non c'è una disciplina fiscale specifica cosa accade però? cosa fa il diritto tributario? il diritto tributario individua come rilevanti dei fenomeni economici e ormai la lascio lì ma è andata così ma così tanto non ho bisogno di bere ho capito che posso andare avanti senza bere individua delle fattispecie economiche che sono sostanzialmente a cui vanno iscritte delle forme giuridiche che non hanno un riconoscimento sotto il profilo del diritto tributario e dove vanno ad inquadrarsi anche dei fenomeni economici che non hanno ancora avuto l'inquadramento giuridico sono quelle cosiddette norme di chiusura ad esempio ne abbiamo una che vado ovviamente alla questione che tipo l'articolo 67 comma 1 lettera c quinques del tuir che attrae i redditi no tra i redditi capitali i redditi e i proventi diversi da quelli delle lettere precedenti e ad esempio dal mio punto di vista se la criptovaluta viene utilizzata quale strumento di investimento perché la criptovaluta è nata come mezzo di scambio ma voi sapete che ha assunto le sembianze prevalentemente oggi di strumento di investimento e anche qui segnalo per chi dice ma ad esempio io mi permetto di dire due cose se voi andate a leggere la corte di giustizia che si è pronunciata sulla rilevanza IVA delle criptovalute parla delle criptovalute anche qui mi verrebbe da dire voi sicuramente sapete che c'è una differenza tra mezzo di pagamento e mezzo di scambio perché il mezzo di pagamento mi consente di estinguere un debito il mezzo di scambio è qui ed ora cioè quello che scambio qui ed ora e quindi nel paper di Satoshi si parla di bitcoin come mezzo di scambio non come mezzo di pagamento c'è un distinto tra mezzo di scambio e mezzo di pagamento dopo non voglio magari fare tutto però quello che cosa voglio dire voglio dire dal mio punto di vista fatta questa ricognizione che per quanto concerne le criptovalute evidentemente non sono delle valute estere so che a tanti fa comodo dire che sono le valute estere a chi fa comodo a chi ha la famosa giacenza media per i sette giorni lavorativi consecutivi che fa sorridere nel criptomondo i sette giorni lavorativi consecutivi a chi ha una giacenza media per fino ai 51.400 erotti euro perché lì secondo l'agenzia delle entrate facendo l'equiparazione delle valute estere non sarebbero eventuali plus valori non sarebbero passati il problema è quando avete sopra i 51.000 erotti euro che a me viene da ridere perché nel 67 c'è una norma che vi dice che tutti i prelievi delle valute estere sono operazione fiscalmente rilevante sono reddito e chi un conto è o sono andato su coinbase ho acquistato ether o bitcoin o quello che è no cardano quello che è no e l'ho tenuto lì e ho fatto niente sostanzialmente ma chi movimenta criptovalute sa perfettamente cosa c'è lì dentro e quindi sa perfettamente che se io agisco nel mondo cripto quindi cripto su cripto e se voglio utilizzare la norma sulle valute dicendo una valuta estera ogni prelievo è tassato ragazzi però questo non si dice o non si vuole sentire perché è così e allora però questo non piace no la norma vi dice questo allora io dico guardate io premesso che se poi vogliamo dare soluzioni io farei ad esempio come in Austria entratemi il primo marzo che rileva fiscalmente perché voglio vedere andare a ricostruire tutte le movimentazioni rileva il passaggio da cripto in fiat no c'è un disegno di legge peraltro anche se spero non vado in porto per altre cose dal mio punto di vista però francamente io ho delle perplessità e quindi io dico bene guardate per me gli eventuali plusvalori da criptovalute sono un 67,1 lettera C5 cioè quella famosa norma di chiusura con i 400 poi ci sono le questioni come dicevo se vado verso la conclusione perché devo chiudere no 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 io faccio quello che volevo no anche qui ma sì l'orale critiche no ma avete fatto questa cosa all'orario noi siamo abituati al convegno dalle 3 dalle 15 e allora se sei abituato a fare perché non provi a cambiare siamo dentro lo schema no cioè io oggi cioè la fatica oggi mia personale è stata più quella a che fare con i vigili e i poliziotti perché loro sono schemati cioè no ma c'è l'ordinanza che non puoi passare noi siamo arrivati fino a 20 metri dal traguardo oggi no dice eh sì perché lo schema dà sicurezza il problema è che però poi qualcosa può cambiare e non sei pronto se tu sei abituato sempre a stare nello schema e quindi ogni tanto la vita ti riserva delle deviazioni e quindi essere anche pronti a capire secondo me dal mio punto di vista è importante comunque non mi ricordo cosa stavo dicendo però va bene lo stesso eh sì la questione ultima così faccio anche un altro riferimento per poi andare la questione che poi ci sono sia delle vicende giuridiche che dei fatti economici che non sono affatto regolati cioè io ho cercato di fare questa ricostruzione come principi però i principi sono importanti per poi applicarli nel caso pratico per me dopo di che c'è chi va a caso dice no ma io vado per casi però quando hai un caso diverso non sai dove parare no ma io vado sulla guida non so guida guida tale dei tali così lo facciamo e cioè io e questo mi fa impazzire dei colleghi dice no ma sulla guida tale è scritto così ma hai letto la norma no ma no ma leggi la norma e non si cioè è terribile questo è terribile comunque scusate dopo di ci sono dei fatti delle vicende giuridiche e delle vicende economiche che non sono regolate ad esempio il quadro Rw è un esempio ma non a caso l'articolo 4 del DL 167 del 90 dice che vanno indicate nel quadro Rw le attività detenute all'estero e le attività estere di natura finanziaria allora domanda le criptovalute ma anche gli NFT perché io mi trovo con delle persone qualcuno che scrive dice ma gli NFT vanno dichiarati nel quadro Rw perché l'agenzia dell'entrata ok faccio perché l'agenzia dell'entrata ha detto che le criptovalute vanno nell'Rw e quindi ci vanno anche gli NFT allora anche qui facciamo un piccolo ragionamento no a proposito di vicende giuridiche ed economiche che non sono regolate quando io ho il wallet parlo di criptovalute no ma solo evidente ma parlo del primo delle criptovalute ok se io se io ho degli ether bitcoin cardano quello che vuole dove stanno la norma mi dice che tu devi dichiarare le attività finanziarie le attività estero finanziarie le attività detenute all'estero ok io il wallet ce l'ho anch'io no io mi ricordo che per sperimentare la cosa degli NFT ho fatto una sera ovviamente sotto un nome mio nome ho creato un NFT con mio figlio ad esempio no mi ricordo quella sera e però io ho il mio cioè voi avete il wallet dove stanno le cripto valute cerchiamo di fare un piccolo agio stanno penso che stanno nella blockchain giusto la blockchain è estero questo è il problema stanno all'estero perché poi la cosa che io cerco di rappresentare è questa ma se io non compilo il quadro rww è evidente ciò vale anche per e vado dico una parola sull'NFT poi dico un'ultima parola del caso in cui io rivenda gli NFT no e sono un privato sono ok vado vado lì perché se pagano imprese e altro finiamo due ore mattina ma e qui e dopo chiudo ma le sanzioni no nel quadro rw quali sono le sanzioni la sanzione vale dal 3 al 15 per cento no delle attività non dichiarate di tutto all'estero se le attività sono detenute nei paesi cosiddetti black list le sanzioni sono vanno dal 6 al 30 per cento quindi paesi non black list lista che deve essere assolutamente aggiornata e noi continuiamo con la vecchia lista se sono sostanzialmente un paese non a fiscalità privilegiata secondo il richiamo del dm che fa l'articolo 4 l'articolo 5 del dl 167 quindi sono paesi non black list tra i 15 sono paesi black list se sei 30 io non le dichiaro dove le ho in paese non black list o un paese black list perché io vorrei capire quale sanzione mi viene erogata perché le sanzioni sono la portata alla detenzione in un paese in un paese estero quindi io no ma io non è che lo dico perché non voglio che voi dichiarate cioè non mi interessa voglio solo fare un bravo ragionamento cioè io dico guardate qui non c'è una norma che né sotto provvedo giuridico né economico stabilisce che le criptovalute devono essere dichiarate quando ci sarà una norma quando ho il wallet evidentemente no quando ci sarà una norma io le dichiarerò in questo momento non le dichiaro ma proprio chiaro ma io ho fatto un convenio c'erano sotto pseudonimo dei insomma dirigenti dell'agenzia di entrate che mi volevano sentire eccetera per cui io non ho problemi a dire io non li dichiaro non perché voglio fare perché io mi hanno insegnato di studiare di applicare le leggi e io non le dichiaro l'NFT beh c'è qualche duro che vuole fare il fenomeno voglio fare un nuovo scusate un attimo se abbiamo capito cos'è l'NFT cioè è una sorta di certificato digitale su un bene che è generalmente un bene un servizio digitale poiché nel quadro W devo dichiarare l'attività di cliente all'estero allora ditemi io l'ho scritto anche in maniera provocatoria che se io detengo un file pdf o di word devo dichiarare nel quadro W perché per me è la stessa cosa vedete voi però però siccome l'agenzia io le solite cose ma mi sembra un insulto alle nostre intelligenze cioè questo lo dico io non riesco ma è come un atto di cioè è un insulto io dico potrò dichiarare l'NFT se l'NFT legato ad esempio a un bene fisico che si trova all'estero allora dichiarerò l'NFT nel quadro W ultima cosa e poi e poi chiudo io ho acquistato un NFT ho acquistato l'NFT del libro legato all'iniziativa del libro di Diego e Diego diventerà prossimo anno tra due anni il consulente giuridico tecnologico del governo statunitense in materia di blockchain dell'NFT è chiaro che l'NFT l'NFT di Diego che peraltro me l'ha regalato me l'ha regalato acquistando il suo libro no me l'ha regalato il libro quindi magari regalami anche il tuo NFT tra due anni quando Diego diventerà è la cosa dei cantanti io ho fatto casa Sanremo mi hanno chiamato a parlare di NFT ma tutte le case discografiche sono terrorizzate ma non è solo un problema di case discografiche perché evidentemente questo mondo disintermedia e voi avete tantissimi esempi di cantanti alcuni sono stati citati i primi in Italia sono stati Bellavista che io conosco poi c'è stato Morgan tu potevi passare una giornata con Morgan e lo infumavi l'impossibile e poi ne uscivi un altro uomo però o un'altra donna non lo so però ci sono stati dal mammut no cioè insomma altri cantanti e quindi le case discografiche hanno un grosso problema no ma che sta cambiando il mondo quindi anche noi dobbiamo cercare di capire certe cose però comunque io ho il suo NFT vale boom no e io lo rivendo e quindi io sono un privato per esempio di prima e quindi il problema che si pone ma se quindi io rivendo l'MFT parlo del privato è tastato ok ok allora qui parole molto semplici dico soltanto questo non sono un imprenditore non sono quindi tralascio il concetto di impresa di tite commerciale eccetera quindi sono il privato no ed è lo stesso problema che abbiamo per chi non so acquista degli oggetti d'arte che poi va a rivendere come te lo stesso vai al mercatino compri un quadro così dopo scopri che un quadro di Picasso ti cambia la vita e magari lo rivendi no ok ed è lo stesso la stessa cosa quindi io ho acquistato facciamo per semplicità non faccio la donazione eccetera ho acquistato un NFT che poi vado a rivendere e ci guadagno è tassata e sono un privato però quello che io voglio dire anche qui dobbiamo ricordare che l'articolo 67 comma 1 lettera N del TWIR va a tassare i redditi che derivano da attività commerciali non esercitate abitualmente ok quello che vi sto a rappresentare è questo la norma parla di attività e il concetto di attività è diverso dal concetto di operazione cioè non è l'operazione che mi fa l'attività quindi no quello che è fondamentale comprendere ricordo che qui non c'è stata e vado davvero alla conclusione ad esempio una norma che avevamo nel DPR 597 del 73 no articolo 76 del DPR 597 73 poi non eravate neanche nati nel 73 però era prima del testo unico dell'imposte sui redditi no lì c'era una presunzione di attrazione attassazione in particolare per gli oggetti d'arte se tu li rivendevi entro due anni e venivano attratti a tassazione quindi era il tempo la temporalità che faceva tassazione però perché vi ho citato la norma perché lì si parlava di operazione l'oggetto d'arte acquistato e rivenduto dei due anni era tassato ma l'operazione col testo unico si è cambiato da operazione diventata attività allora quello che voglio dire è questo che quando io acquisto e rivendo non è necessariamente attività cioè per farsi attività quindi l'acquisto singolo è chiaro che se io mi metto acquistare vendere in effetti quello magari sarà anche un'attività coperciale magari esercitata abitualmente addirittura tassato con le regole di imprese ok però quello che io voglio dire non è la singola operazione che fa il rete diverso ma è l'attività quindi ci devono essere evidentemente oltre evidentemente una sorta passatemi questo termine di premeditazione cioè io ho acquistato quel bene per poi rivenderlo quindi un intento speculativo però non è sufficiente per avere attività l'attività è il fatto che devo aver fatto una serie anche ulteriore di atti ad esempio di reclamizzazione di creazione o pubblicizzazione attraverso un sito faccio degli esempi per aversi attività quindi quello che semplicemente qui poi c'è giurisprudenza guardate incredibile e devo chiudere e chiudo davvero quello che però vi rappresento il concetto prima del testo unico era l'operazione che viene attassata in un arco temporale pienale il testo unico ha cambiato parla di attività e quindi la singola operazione non è attività bisogna capire se ci sono passati in questo ultimo termine dei corollari rispetto all'acquisizione e la successiva rivendita per aversi attività e dunque perché l'attività quindi no l'operazione risulti tassata con questo non so se ho splafonato ma come sa Luigi non mi ravvedo io sono ecco l'errore è la più alta una delle più alte forme di verità io sono sostenitore della valenza dell'errore e quindi non mi ravvedo perché è tutta verità nell'errore sei te stesso questo tipo se fai come dicono gli altri non sei te stesso l'errore come la blockchain è una data forte con questo non voglio interviarvi io vi ringrazio e se ci sono domande ha fatto due ore di bicicletta no 200 km di bicicletta e non ha mangiato e non ha mangiato ha fatto cadere ormai tutto quello che poteva far cadere Daniele il collega Daniele Tumietti di Milano voleva fare una precisazione hai voglia di venire se vieni qui ti sento anche a distanza grazie Daniele volevo solo dire una cosa a supporto di quello che aveva detto adesso Dario assolutamente d'accordo sul fatto che la considerazione dell'agenzia delle entrate su quello che è la la blockchain è sbagliatissima non va bene con la criptovaluta non va bene e sarà modificata sarà modificata in che modo con l'unico modo possibile che si riesce a fare in questo paese cioè utilizzando strumenti giuridici a livello europeo uscirà entro fine anno la revisione del regolamento EIDAS che è già stato approvato in bozza dalla commissione europea ma probabilmente tra un paio di settimana uscirà una nuova bozza rivista e l'obiettivo è entro fine anno che venga pubblicato e quindi saranno ricomprese definizioni fondamentali come quello della conservazione attraverso registri distribuiti smart contract e quindi si ristabilirà una logica giuridica fondamentale che poi darà anche il là a un'interpretazione differente mi auguro a livello di tassazione stiamo lavorando fra l'altro con la commissione europea io sono commercialista ma in realtà faccio lo standardizzatore cioè scrivo gli standard da livello mondiale stiamo lavorando con la commissione europea sull'avvio della discussione della revisione della direttiva comunitaria in materia d'iva e anche lì cercheremo di inserire delle indicazioni che possano semplificare poi lo sviluppo di un'economia che è reale non è teorica citava Diego prima Napster è stata acquisita adesso da Algorand che è una blockchain quindi il mondo sta cambiando molto velocemente speriamo che ci permetta di poter lavorare ancora per il futuro anche nonostante l'agenzia delle entrate grazie mille anche a Daniele Donietto un collega di Milano bene abbiamo concluso questa due giorni credo che lo studio De Ottolo Vecchio e Partner che ha organizzato il tutto abbia messo in piedi un evento un po' fuori dal normale come sempre quando c'è Dario di mezzo e credo che sia stato un evento a partire da ieri pedalato di oggi e l'incontro di oggi pomeriggio credo che sia stato molto interessante per chi ci ha potuto seguire abbiamo approfondito i temi della sostenibilità del mondo digitale il collegamento tra questi la sostenibilità collegata alla bicicletta da qui il collegamento con la pedalata con il giro di taglia perché oggi c'è stata la tapa a Sant'Arcangelo Rimini quindi abbiamo legato il discorso della via Emilia siamo riusciti a coinvolgere gli ordini commercialisti di Reggio Emilia e quello di Rimini i comuni di Rimini e di Reggio Emilia abbiamo fatto il massimo tutto quello che potevamo fare l'abbiamo fatto gli approfondimenti mi sembra che siano stati di altissima qualità non alta ma altissima qualità e quindi ringrazio nuovamente tutte le persone che sono intervenute e basta concludo qui arrivederci alla prossima occasione ciao ciao